Ciao a tutti! Oggi siamo a casa di mio padre Paolo e faremo un po' di festeggiamenti. Festeggiamo i miei primi 100 iscritti, dei quali ringrazio tutti voi, il ritorno di mia sorella Jo dall'India e un compleanno di una nipote. Ciao! Sono tornata! Ciao! 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 qui si chiude questo breve video ancora grazie a tutti per il mio piccolo traguardo noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti iscrivetevi al canale lasciatemi un like e un commento